Anche Confartigianato Belluno ha preso parte alla manifestazione di giovedì scorso presso gli spazi del Milano Convention Center. Una mobilitazione corale per far sentire la voce delle piccole imprese, in un'Italia dove il mondo produttivo è rappresentato per il 98% da artigiani, micro e piccoli imprenditori. Uniti per un giorno nella città lombarda per continuare a dire sì alla produzione di valore artigiano, anche dopo gli immani sforzi operati dal paese per uscire dalla crisi. Noi siamo qua a manifestare, a prescindere che per l'artigiano la prima cosa non è dire di no per paura di sbagliare, noi diciamo di sì sempre alle infrastrutture, al cercare di fare qualcosa. Come provincia di Belluno noi chiediamo una migliore viabilità, perché siamo veramente, soprattutto verso il nord, siamo completamente isolati. Abbiamo grossi problemi di viabilità verso Cortina, verso l'Austria. Nella fattispecie, tra le richieste portate dai bellunesi a Milano, figurano il prolungamento dell'A27, l'adeguamento della statale di Alemagna, il treno delle Dolomiti, l'elettrificazione della ferrovia, la banda larga. Perché solo così potremmo far arrivare le nostre merci in Italia e all'estero, ha sottolineato la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella. Così come rendere attrattivo il nostro territorio, sia per nuovi investimenti, sia per nuovi residenti. Forse più che dare aiuti, sostegni economici, sarebbe da sostenere soprattutto la cultura, dare una cultura di base ai ragazzi, scuole serie e dare una cultura del buon lavoro, della serietà del lavoro che da anni ormai è completamente persa. Grazie.